Questo ragazzi sarà un video super mega depresso, ve lo dico già, che è anche poi il motivo per cui sono stato assente dalla scena. Sono depresso ragazzi. Cioè adesso depresso è un parolone ovviamente perché ormai nel ventunesimo secolo lo utilizziamo un po' tutti a sproposito. Cioè è più tipo apatia, non provare nulla nei confronti della vita, non trovare stimoli, essere passivo. Mi sono rimesso un dito in culo ultimamente, l'ho riprovato e volevo sentire qualcosa. Non mi sento soddisfatto, è come se non stessi vivendo io la mia vita. Cioè è strano, solo vuoto, proprio tanto vuoto. E non è una cosa per forza, cioè non è che ci piango, non sto male. Sì sto male. Vabbè, ma come tutti, ma tutti stiamo male ragazzi, cioè in Afghanistan la gente muore. Cioè adesso io non voglio essere così egocentrico, non è che non ho tumori, il mio pipo si alza ancora. Cioè non è che ho dei problemi, capito? Sto bene, sto bene. Ho comprato un bel po' di fumetti, ho riempito la libreria di fumetti. Sono tutti tipo i numeri uno di qualcosa. Non c'è nessuna serie completata, praticamente. Ma io sono sempre stato così, ho sempre comprato le gomme da cancellare e poi non le finivo mai, ne compravo di nuove. Non ho mai finito nulla nella vita. Ho pensato anche a farla finita, intendo uccidermi, non pensiate che chiuderei mai il canale, anzi il canale rimarrebbe aperto. Però ho ancora un bel po' di fumetti da leggere, quindi insomma. Oggi tira un po' d'aria, fa un po' fresco. In realtà è da un po' di tempo che mi siedo sulla sedia e penso, ok, forse dovrei fare un video, forse dovrei fare qualcosa, forse dovrei agire. Poi mi fermo e non faccio nulla. Mi sembra tutto così sgretolante, tutto sgretamenchi. Ci manchi Greta? Il che è assurdo perché comunque pago le tasse. Non è che le sto pagando, però I'm going to, è... Je suis un train d'è. Cioè sono un cittadino modello. Porto fuori l'immondizia, lavo i piatti. Vivo. Però a volte non ti senti vivo, ti senti tipo... A volte ti senti come sopravvivere, no? Mi guardo attorno, vedo la gente con la borsettina, con la 24 ore, i milanesi che vanno a destra, a sinistra, tutti velocissimi. Le modelle che stanno lì al telefono mentre c'è il loro agente che le insegue. E penso, ma come fanno? Deve essere per forza un pulsante nel cervello che ti fa spegnere i pensieri e ti fa vivere. O sono io costantemente in overthinking. Che brutto pensare, mamma mia. E quindi i pensieri che anni fa non ti facevano dormire, quegli stessi pensieri adesso non ti fanno nemmeno lavorare. Non ti fanno nemmeno sentire vivo. Ti lasciano in questo stato di verme che striscia per terra e se ne sta lì. Ma poi io sto parlando con dei quattordicelli. Sos, ragazzi, sos. Un giorno capirete il mio discorso e andrete al poligono di tiro. E quando vi faranno la domanda ai pensieri suicidi... Non mi va di far la vittima, ok? Non voglio essere qui a fare il piagnisteo e dire, cazzo, ragazzi, tra un mese starò meglio, dai. È tutta una questione di periodi. C'è il periodo giù, c'è il periodo su, c'è il periodo no, c'è il periodo sì. Anche Picasso ha avuto un periodo rosa, un periodo blu. Poi il fatto che io sia nel mio periodo blu da ormai 20 anni è un po' un problema. Ma forse è già passato il mio periodo rosa. E voi ragazzi? In che periodo siete? Siete in quel periodo del mese? Non si scherza sul ciclo. E le donne sono tutte bellissime. Anche quelle con le ossa enormi. Sì, esatto, quelle che non ti matchano su Tinder. Ho lavorato a un sacco di cose in questo ultimo... Cioè, beh, non è che ovviamente sia stato tutto il giorno, tutti i giorni a letto, a poltrire. Anzi, ho avuto diverse chiamate importanti, chiamate di lavoro. Ho lavorato a diversi progetti che per ora non... 26 ottobre. 26 ottobre. Ah, poi usciranno anche le nuove felpe e magliette. Ho anche delle storelle nel cassetto, cioè, se proprio vogliamo per i più... O più... Quelli che... Ah, c'è un bonus, cioè... Cioè, ci sono, le ho, le ho, le ho sempre avute, però nel senso, non è che... Però ecco, non voglio, non voglio essere... Cioè, questo video non deve essere né una lamentela, né un... Hey, ragazzi, sono tornato con mille novità! Volevo essere tipo un... Hey! Come va? Eh? Poi la cosa... No, si è staccato... Si è staccato un pezzo di muro. Il fatto è che a volte i miei stessi pensieri mi bloccano, no? Cioè, ho avuto un sacco di tempo per fare video nell'ultimo mese. E ho avuto anche delle idee, ho avuto nuove idee. Però poi non faccio mai nulla. Perché non faccio nulla? Eh, perché magari questo, non lo so, chissà come la prendono. Eh, questa idea è carina, però magari non piace a nessuno. Non lo so. E se dico una cosa sbagliata? E se... E se? Faccio prendere dall'ansia e quindi finisco con lo starmene fermo. Chiuso in questa camera buia. Pensate che ho anche creato un nuovo canale. Senza video, ovviamente. Perché due o tre settimane fa ero carichissimo. Ero lì tipo a dire... Dai, adesso spacco tutto. Adesso lavora questo, fai quest'altro, fai quest'altra cosa. Però l'ansia, i pensieri, le vocine, gli amici immaginari... Andatevene! Basta! No, tornate qua, vi prego. Mi sento solo. Non sono pazzo. Tornerò a far video. Non so se caricherò questo video in realtà, eh. Eh, ti capisco, eh. Sei lì che resisti, resisti, resisti. Ti sei appiccicato con questo leggero scotch. E a un certo punto dici, boh, sai cosa? Mollo. Ma sai che ti dico? Io no che non mollo. Non farò come te. Non mi lascerò andare. Non cadrò. Solamente perché quel pezzettino di scotch era troppo debole. Forse nemmeno tu volevi un mollare. Morale della favola. Fatemi sentire che ci siete con 20.000 pollicioni. Sono tornato, ragazzi. Più debole di prima. Ma questa volta sarò costante. Ci vediamo dopo domani con un altro video. Domani l'altro. Adesso non... Calma, ragazzi. Calma. E non mi fate la paternale nei commenti. Fanculo.